I know I never could, I know that I can't, I know body else is good as you, I need you to stay, need you to stay, yeah Cos'è questo odore di profumo? Che schifo! Mamma mia, c'è un puzzo di profumo assurdo qua! Madonna che schifo! Il profumo è d'accesso quando ho finito di cacare Battle Royale, con gas in avvicinamento rapido, andate nella zona sacramento Mamma mia, devastante Ho uno sta a gi- Elimino il 4 amico! Dove vai? Fatto il giro a giro a toglie? Si E' levato fuori? Si si Con me, il far fuori è sinonimo di sicurezza Il fermo strigge, raggiungi l'aria a bersaglio! Oh, troppa gente qua! Su c'è troppa gente! Su? Tu, tantissima! Vabbè dai! Centro! No, ce n'è uno su! Vieto! Occhio! Eh, non ce l'ho fatto in centro! Eh, vabbè! Soldato nemico in arrivo! Comunque C'è un uomo non ha un paese di dispersione, eh! Cioè, devi proprio... Cioè, devi proprio... Cioè, devi proprio... E' uno sul tetto anche! Due sul tetto! Mi seguono! E li porto da voi! E li porto da voi! Tutti sopra, vedi questi? Oh, io c'ho uno scudo, se lo volete, di riserva! Corazzo! No! No, non ci credo! Questo è mappato! No, no! Ti è piaciuto? No! Si ricomincia! NEMICO IN DISCESA NELL'AREA OPERATIVA! Oddio, che li ho fatto! E' l'ho... No, no, un altro! Un altro, un altro! Un altro all'entrata di qua! Com'è possibile? E' qui, eh! Entrati tutti solo craccati! A mezzo di centimetro non li butto del culo, eh! e li ho fatto da un psicologo, eh! Che spettacolo questa modalità! che spettacolo questa modalità! Ah, bravo! Che spettacolo questa modalità! Ah, bravo! che è barato questo gioco mi sta risseguendo non ho più colpi di foto cioè ce l'ho ma due col più basso barazzante il gioco una volta non mira col pompa no invece mi sa che col model e quell'altro va mirato perché non chiappano bene sennò io non mi ero mai col pompa io prima ho provato a sparare il nemico in volo mi hanno colpita ancora un altro ostile in distesa nell'area occhio in alto gas in movimento nuova zona sicura individuata ne restano solo 25 hanno voglia di tornare è sotto non ci credo che c'è chi non è da sotto contatto contatto oh è qui grande annena king non so come non so come ho visto una patovra bellissima che incredibile ma voglio di tornare è sotto no ragazzi il crack è matto ci credo bimbi c'è chi non è da sotto non c'è tempo abbiamo oh è qui grazie almeno chi non so come non so come ho fatto ho visto una patovra bellissima che cosa ho fatto mir che incredibile oh qui c'è un jack 12 d'oro è doro vero? si però non ha colpi guarda è un jack 12 ma non ha colpi non ha niente dentro vedi gas in arrivo alla nuova zona sicura è leggendario quello ma non ha nulla è vuoto ti doro di presi delle stazioni di acquisto ritoccati l'ha presa Nina l'ha visto lei ah non ha accessori non ha accessori è vuoto però leggendario è vuoto qua via alleato in sorbolo uno è sopra video si uno è qui sopra mi sparano gli altri stanno salendo ora dalle scale mi stanno sparando non sanno chi sono gas lacrimato e illuminazione vabbè ragazzi è incredibile che stoffa? quello lì viene preso dal gas tu fai un macello dove sei un macello? dove sei un macello? non sto aspettando quelli che salgono il nemico arriva non sia arrivano no è traccato uno sul tetto occhio è dalla carrufola uno da dietro uno a terra gas in arrivo nuova zona sicura contrassegnata un nemico in discesa nell'area operativa chi è questa roba? lì è mia ok qui c'è una sacca corazza qui oh Mirko doveva se l'è fatta no dai anche da lì Mirko non lo ho fatto non lo ho fatto ti lascio i soldi Mirko prenditi pure tutto quello che vuoi va bene non posso prendere un cazzo perchè c'è gente i soldi sono giù comunque poi i stranger 3 hai ricevuto attacco in corso ma come faccio c'è gente eh no 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 non ho fatto non ho fatto i due non ho fatto l'ultimo è stanzando le scale da di qua una a terra mi muovo ok non ho dato l'ultimo gas in arrivo spostamento della zona sicura no siamo 3 eh 5 rimasti ecco 4 contro 1 4 contro 1 questo era qui dentro è qui è qui è qui è qui è qui è la pegata è la pegata oddio godo è la pegata qui dentro è giù allora se esce dalle scalette l'ho trito eccola eccola l'ho visto dai vieni per favore termite lanciata lo sto bruciando l'ho fatto l'ho fatto guarda che l'ho fatto io ci voleva andare per un quarto madonna l'avevo tirato anche la termite e me l'ha ucciso prima che morisse oh no vuoi tirarlo o un record aspetta ragazzi oh record non ci credo non ci credo ma io non ho fatto un po' eh e allora sei fatto 40 non ci credo siamo arrivati a 40 non ci credo no no non siamo arrivati a 40 non ci credo non darmi false aspettative no io l'ho fatto 8 non mi sbaglia allora Federico 9 Mir plus 6 io 3 nooo l'ho sgarbato 21 no allora aspetta 22 più 9 31 ho fatto schifo voi 40 eh sì sì 40 per 15 40 sì 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 è mura il primo un di una modalità bellissimo bellissimo muovo records e io che non so usare il corpo beh invece ora si impara vedi 40 chi li tim è fantastico 18 40 sì sì 40 tonti quanta tonti incredibile Che spettacolo 3, 6, 9, 22